benvenuti in un nuovo video arachnofili oggi puntata speciale perché a mezzanotte è il mio compleanno e oggi mi sono fatto ovviamente un regalo e che regalo migliore è quello se non comprare un coltello spiderco quindi oggi sono fatto il regalo e finalmente ho trovato doppia busta un bellissimo spiderco che cercavo da sempre e ho scelto questa versione diciamo più vecchia perché di questi spiderco ne sono stati fatti ben due con una rivisitazione e io ho preso il primo spiderco chiamato spiderco te e tecno tecno 1 vediamolo un po vi faccio vedere un attimino il suo foglietto illustrativo all'interno per la garanzia per l'originalità e apriamolo e vediamolo insieme perché questo è lo spiderco tecno 1 uno dei più bei coltelli folder clip it piccolo della spiderco eccolo qua allora ve lo inquadro meglio iniziamo a parlare del tecno 1 il c 158 tecno è stato introdotto nel 2012 ed è uno dei little big knives di spiderco little big knives starebbe per piccoli grossi coltelli vi ricordo che oltre al tecno i little big knives sono ad esempio ad esempio il mac b che c'ho qua vicino che l'ho preso prima per farvelo vedere eccolo qua che lo metto vicino quindi come vi stavo per dire little big knife vuol dire piccoli grandi coltelli a livello proprio di qualità costruttiva quindi piccoli come dimensione ma grandi o grandi vuol dire proprio che vengono utilizzate materiali di alta qualità utilizzati appunto per coltelli giganti il tecno 1 oc 158 viene descritto così dall'azienda spiderco il coltellinaio polacco marsin slis che vi metto perché ha un nome veramente impronunciabile disegna il suo folder tecno con un aspetto europeo progressista il tecno rientra nella categoria little big knives di spiderco il che significa che ha una lama e un manico più piccoli abbinati a un meccanismo di bloccaggio per impieghi gravosi lama in un acciaio esotico ed una costruzione simile ad una volta che si trova principalmente su coltelli più grandi e resistenti la prima collaborazione di spiderco con mr slice il tecno è anche il primo spiderco clip it di produzione principale ad utilizzare l'acciaio carpenter cts x hp i metallurgisti dell'acciaio per coltelli si riferiscono a cts x hp come avente la proprietà e la durezza dell'acciaio per utensili al carbonio d2 ma con l'ulteriore vantaggio del cromo tanto da poterlo classificare come un acciaio inossidabile appunto in polvere lama completamente piatta ha un foro rotondo spiderco ovviamente spiderco sovradimensionato è un jimping resistente allo scivolamento sul dorso so se vedete il foro è bello grande quanto metallama praticamente il jimping sul dorso per il pollice il manico in titanio con distanziali blu distanziatori a contrasto che lasciano il manico aperto ed espongono appunto i meccanismi interni in questo modo per una facile pulizia un crease rive integral lock eccolo qui il cosiddetto ril incorpora appunto la scale la manicatura posteriore del manico come blocco ve lo chiudo con il lato posteriore dell'impugnatura che raddoppia sia come impugnatura che come blocco lama la necessità dei liners interni non ha più senso quindi non viene utilizzata viene quel punto eliminata e il coltello può essere fabbricato più leggero e più sottile pur mantenendo una maggiore resistenza è possibile posizionare una clip a filo da tasca profonda per l'uso con la mano sinistra con la mano destra quindi a destra o a sinistra con la punta della lama ovviamente posizionata rivolta verso l'alto nella tasca vedete si può mettere solo da questo lato la clip quindi a destra e a sinistra non di qua di solo da questi lati quindi la punta rivolta verso l'alto quando provate ad estrarlo quindi dal basso verso l'alto l'unica cosa scomoda è che possono aprirli solo appunto i destri e non i mancini quella sinistra è scomodo da aprire quindi accedere allo spider call ok adesso invece vi parlo del tecno 2 uscito invece nel 2018 progettato dal produttore polacco di coltelli personalizzati marsin sliz il coltello pieghevole tecno di prima generazione racchiude l'incredibile forza utilità in un pacchetto incredibilmente compatto il tecno 2 continua questa tradizione e trascende il design originale con funzionalità e facilità di manutenzione ancora maggiori la lama con finitura stone wash della tecno 2 il tecno 2 è realizzato in acciaio inossidabile cts x hp di 3,5 mm di spessore la sua elevata affilatura a sciabola mantiene un dorso a tutto spessore per resistenza garantendo al contempo una geometria del tagliente superiore per prestazioni di taglio a basso attrito il profilo raffinato simile allo ship foot offre una maggiore utilità del punto è una corta jimping scanalatura testurizzata sulla thumb ramp fornisce un ottimo appoggio per il massimo controllo durante l'uso il manico del tecno 2 è costruito con due solide scales di titanio lavorate con precisione dal titanio 6 al 4v e sfoggia una bella finitura opaca stone washed entrambi sono dotati di rientranze lavorate per accettare la clip metallica della tasca profonda che è facilmente reversibile per supportare il trasporto ribaltabile sul lato sinistro destro la scale sul retro costituisce la base del robusto meccanismo rib integral lock ril o ril del coltello che blocca la lama in modo sicuro durante l'uso ma può essere facilmente rilasciata con una sola mano i distanziali in titanio anodizzato verde uniscono le due metà dell'impugnatura per creare uno stile di costruzione con retro aperto che riduce il peso complessivo e consente una facile pulizia e manutenzione per gli utenti finali che amano accessoriare i propri coltelli con cordini e portachiavi il manico del tecno 2 include anche un foro per cordino di dimensioni generose per parlato del tecno 1 e tecno 2 vediamo un po quali sono le differenze allora intanto vi do un po di misure il tecno 1 questo che vedete davanti è lungo totale in totale 152 mm ha una lunghezza della lama di 65 mm ha una lunghezza del filo di 59 mm pesa 102 grammi e ha uno spessore della lama di 4 e mezzo ovviamente 4,5 mm quasi mezzo centimetro mentre il tecno 2 ha una lunghezza della lama di 64 mm una lunghezza del filo di 62 mm uno spessore della lama di 3.5 mm e una lunghezza totale di 152 mm il peso è di 96 grammi cosa c'è di differente tra il tecno 1 e il tecno 2 intanto non abbiamo più diciamo il distanziatore blu che è molto figo mi piace tanto nel tecno 1 abbiamo invece distanziatori anodizzati verdi abbiamo una lunghezza del filo della lama di qualche millimetro più importante dai 59 ai 62 mm lo spessore della lama si riduce notevolmente per ridurre anche il peso e anche per migliorare il taglio quindi da 4,5 vedete quanto è bello grosso spesso si arriva a 3,5 quindi questo vuol dire che si riduce di 1 mm e poi abbiamo la differenza che il foretto il foro del paracord è portato dietro ed è un po' più grosso per appunto far passare il cordino è un po' più leggero quindi da 102 a 96 grammi quindi molto più leggero perché questo il tecno 1 vi posso assicurare che è preso in mano è veramente pesante oltre ad avere una buona ergonomia però è abbastanza pesantino per quanto è grande il resto non c'è che dire è un coltello veramente superbo bellissimo come DC è veramente perfetto sia come peso non troppo eccessivo sia come resistenza detto questo e comparandolo col mac b piccolissimo vedete quanto è piccolo quasi quanto forse il suo manico no si quanto il suo manico anche più piccolo io vi saluto e vi faccio una nuova inquadratura dello spiderco tecno 1 faccio vedere anche il logo del produttore con questa mano che ha degli artigli a forma di coltello ovviamente prodotto in Taiwan a Taichung un saluto dal vostro doc iscrivetevi e commentate come sempre il video alla prossima